Il Comune di Roseto degli Abruzzi nel lungo consiglio comunale di ieri sera ha deciso di chiedere la temporanea sospensione del progetto delle barriere antirumore da parte di Ferrovie dello Stato, con l'intento di trovare una soluzione diversa con lo scopo di rendere meno impattante l'intervento proposto e avviare una discussione su un vero progetto strategico infrastrutturale di spostamento della ferrovia verso l'interno. È stata presentata e approvata una mozione che condivido in pieno da parte di tutti i consiglieri per dare mandato al sindaco per promuovere ogni iniziativa a tutela dei cittadini relativa insomma al ripensamento delle installazioni di queste barriere perché si creerà un vero e proprio muro che dividerà tutta Roseto, tutta Roseto si tratta di barriere di contenimento insomma dell'inquinamento acustico che saranno alte anche fino ad 8 metri e saranno poste quindi ai lati della rotaia e della ferrovia e divideranno completamente tutta Roseto e quindi avranno un impatto sociale veramente preoccupante anzi un impatto che ci terrorizza e oltre a questo per non parlare chiaramente dell'impatto sul turismo dividerà una popolazione anzi intere popolazioni di tutta una fascia riatica. Le ferrovie hanno voluto l'installazione di queste barriere in virtù di un piano di risanamento che è stato varato dal Ministero dell'Ambiente. Ora ci sarà contattato il Comune di Roseto degli Abruzzi che dovrà emettere un parere di conformità urbanistica e dopo la Regione provvederà a indire una conferenza di servizi, chiaramente la nota di conformità urbanistica che sarà emessa dal Comune non sarà vincolante al termine della conferenza di servizi, dopo la decisione spetterà la presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi non siamo neanche sicuri eventualmente di vedersi accolta in via subordinata una richiesta di mettere pannelli trasparenti, sarà sempre a discrezione e a concessione delle ferrovie dello Stato.